Salve, sono Rob Jones, senior producer su NBA 2K14 e a nome di tutti noi qui a Visual Concepts, 2K Sports e Take-Two Interactive vorrei ringraziare l'associazione editori, sviluppatori, videogiochi italiani per questo grandissimo onore che è il premio del Drago d'Oro per il miglior gioco dello sport di quest'anno. Siamo molto molto felici di poter lavorare ogni anno su questo gioco dell'NBA e del basket, cosa che noi amiamo e quest'anno siamo anche più contenti del fatto di aver potuto includere le squadre dell'Eurolega con sia la EA7 Armani Milano e la Montepaschi di Siena. Di nuovo vogliamo ringraziare tremendamente per questo grandissimo onore siamo molto felici e vi promettiamo che quest'anno vi porteremo ancora altre cose di cui essere fieri. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.